ehi ciao a tutti no non devo dire adesso non devi parlare sulla intro coglione io ci sto parlando ciao a tutti chi cazzo sei tu leon coglione in bomba con super mario balotelli che non si è neanche spostato di un passo il portiere la guarda è illuminato un pallone arriva davanti alla porta non grossa la passa indietro tiro di bomba è sergio ramos guardate un gol impressionante che gioco è questo fifa o pes 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 allora in entrambi non esistono le leggi fisiche non esistono e in fifa ragazzi il numero 3 il giocatore spaccatagli le gambe jobs non è tutto cioè guardate fa tu solo numeri solo numeri guardate sto giocando contro un'altra persona si 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 online quante cazzo di bestemmi no adesso se tu giochi contro questo qui che poi ha tirato anche da fuori ara sotto il set che cazzo è da i capelli color giallo è un giocatore oro per quello e al numero 2 ragazzi un gol bellissimo un gol bellissimo guardate numero numero ancora fisicata e tira il volo che gol incredibile guarda lo guarda sta fermo in mobili fa la finta del tiro dice cazzo quanto bravo che che cacchio devo parlare no boh non so chi era non lo so è il numero 1 per un gol a solo di cacca guardate bicicletta al portiere qui non si è visto bene adesso a fare il replay si vede meglio guardate che l'ho anche rallentato guardate bicicletta hop hop gadget pallonetto al portiere un gol spettacolare penso che tutti i ragazzi che hanno trovato caldo hanno pensato di fare un gol così e questo ragazzi è tv su veramente su fifa guardate quindi becco i pali esatto bravo già capito tutto palo interno traversa parata più o meno è quello che è successo a me ma non è finita ho tagliato il video è solo della stessa partita guardate qua tira dalla distanza impossibile palo interno fuori di pochissimo ma non è finita è un ragazzo traversa adesso c'è la traversa sono un ragazzo fortunato perché mi hanno preso è veramente traversa interna ma il portiere che cazzo fa sta ferma a guardarla ma scusa cosa deve muoversi va sul palo grazie il cazzo beh ragazzi corta corta top corta ma stupenda gol stupendi ciao a tutti al prossimo video